Allora, partiamo dall'inizio. Cosa? Toffa, ti sei rincoglionita? Raccontaci dall'inizio cosa è successo. Eh, ma Trieste è fare un servizio. Va bene, quel servizio l'abbiamo visto la scorsa settimana. Sono andata a mangiare, sono andata a letto. Briaca? Ma no, ha bevuto. Io reggo poco, eh, devo dire. E poi? Hotel, tutto normale. La mattina mi alzi, ho chiamato te, che stai parlando dietro la telecamera. Sì, mi ricordo. Infatti ti sentivo rallentata. Mi sembrava quasi che ti fossi fatto una canna. Però non ha fumato una canna. Ho pensato anche che ti fossi imboscata con un maschio. Perché non può parlare. Ho pensato proprio che eri un amante.